Buonasera a tutti, ben ritrovati al Tg7 Basilicata. Quest'edizione la apriamo partendo dal terremoto giudiziario che ha scosso proprio la Basilicata questa mattina con oltre 100 indagati nell'ambito dell'operazione della direzione distrittuale antimafia di potenza sulla sanità lucana che ha portato quest'oggi a diverse misure cautelari. Il capogruppo di Forza Italia alla regione Basilicata Francesco Piro e la sindaca di Lago Negro Maria Di Lascio dello stesso partito sono stati arrestati nell'inchiesta. Piro è stato condotto in carcere, la Di Lascio si trova attualmente ai domiciliari. Il coinvolgimento di Piro rientra in diversi filoni investigativi, uno di questi è connesso alla costruzione dell'ospedale di Lago Negro. Gli altri sono relativi alle ultime tornate elettorali che si sono svolte in Basilicata. Secondo la direzione distrittuale antimafia Piro avrebbe relazioni con esponenti della locale criminalità organizzata e per scopi personali, politici e elettorali spesso a scopo intimidatorio ha ostentato i suoi interlocutori i suoi asseriti collegamenti con contesti criminali calabresi. Coinvolto nell'inchiesta anche il presidente della regione Basilicata Vito Bardi che ha consegnato agli investigatori il suo telefono dopo alcune perquisizioni nel suo ufficio. Si va avanti in un momento di crisi senza precedenti, ha commentato Bardi, sono come sempre disponibili a collaborare. Proprio la costruzione del nuovo ospedale di Lago Negro pare essere il centro dell'inchiesta che vedo i coinvolti diversi uomini, politici e amministratori lucani, tra questi l'attuale assessore regionale all'agricoltura Francesco Cupparo nei cui confronti è stato disposto un divieto di dimora a Potenza e l'ex assessore lucano alla sanità Rocco Leone a cui è stato notificato l'obbligo di dimora a Policoro. Tra le persone coinvolte è anche il direttore generale dell'ospedale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Melfi dove sarà sospesa l'attività lavorativa presso l'azienda Stellantis per tutta la prossima settimana dal 10 al 15 ottobre per mancanza di un componente specifico. Siamo in chiusura, vediamo il tempo per domani, un tempo stabile, con velatura di passaggio ma senza fenomeni associati. Per questa sera è davvero tutto, l'appuntamento è come sempre qui domani sera alla stessa ora. Vi aspetto. Grazie. 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 Grazie.